Che vuole Dimitri? Che stronzo Meriti una vendetta Ma tu mi hai chiesto Di uccidere Fausti Sì, beh, sto qua come cazzo sta in peni sui cartoni, dai Ciao a tutti ragazzi, sono Adry Bentornati sul mio canale Questa è la prima delle quattro Missioni con Bruzy E veniamo ad una missione molto importante Abbiamo avuto un nuovo rifugio Poiché sia l'attività di Roman Sia il nostro primo rifugio Sono andati in fiamme E siamo praticamente, ragazzi Ad un nuovo inizio E direi veramente Di tuffarci in questo nuovo inizio Magari senza essere investito, grazie Search and delete Cerca ed elimina Polacco poi Polacco poi Ok Nico è piuttosto incazzato Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Come on, touch my becks, man Listen up Ok, la nostra salute non è delle migliori però ci saranno Già, dai Allora A parte quello che ha detto il russo Che non ho capito Dovrebbe chiamarci Procurati una volante della polizia 9-1-1 Ok Ok Is took An LCPD peacekeeper will be there as soon as possible, sir Vediamo se così funziona Eccoli Tranquifra Ci ho già pensato No, fratelli No, fratelli Sono loro No Però se lo faccio io Eccone un'altra Eh, modern problems require modern solutions Minca, c'ho anche l'elicottero che mi segue Mostro il cazzo 3 stelle Fra voi siete out Voi siete out Eh, già a posto Perfetto I'm here I have a computer You're a badass, man I love it Now this cat's name is Lyle Revis Type it into the computer And you should get some known whereabouts and shit I take them out myself But when people see me coming They fucking run, man Know what I'm saying? Cats don't want to mess with someone Pack of 24-inch guns like mine, baby Yeah I'll track down this Revis Cool, man I'll kill the chills down the phone Allora Copiata la polizia Lyle Revis Ok Perché non posso fare un cazzo? Allora Lyle Revis Ok Eccolo Beh dai Abbastanza easy E' anche vicinissimo Buono Anche se non facevi questi scatti Era uguale Ok Ok ci siamo E questa Dall'altra parte Fra Ok State a vedere Ho fatto la cazzata Di lasciarla lì Proprio lontano Dalla porta all'ingresso I got the message From Brucie For you Brucie I thought he was Fucking joking Shit Shit Ah così In seguida Se l'ammazza Ma perfetto Oh La macchina La polizia Serve perché Gli altri Si scansino E ovviamente Servita anche Per Ricercare Il tipo Petraglietta Petraglietta Non è facile Per un cazzo Raga Non è facile Non è facile Non è facile Non l'ho colto Non l'ho colto È vero Che dove vado All'aeroporto Adesso Che voli fare fra Ciao 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 Lì arrivas Sei finito Sei finito Grande Basta se si rende non ho rotto il cazzo Ok prossima sempre per Brucie Quindi minchia quanto siamo andati lontani Torniamo da lui Non dovresti rispondere a Rivas Non dovresti rispondere a Rivas Lato, c'è un po' di persone Sì, molti di persone Sì, molti di persone Sì, che certi persone Sì, che non può dire le cose A altre persone O che non può dire O che non può dire Se si capisce Mi sape l'argento Tu sei tutto C'è un po' di cabbage C'è un po' di lettura Le lettura Le lettura Ice cold C'è un po' di Mi piace Ci sono più di lavoro Ci sono più di più Ci sono più di necessità good fuck this fuck this shit che vuole brucey si si andiamo a fare la seconda di 4 che sarà nel prossimo episodio e non vi togliete te coglioni che vi devo dire come fanno loro a me ragazzi eeeh c'è un pochino di sangue in questa macchina giusto un pochino che vuole Dimitri che stronzo meriti una vendetta ma tu mi hai chiesto si vabbè sto qua come cazzo stamperi sui cartoni dai vedrai 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 poi come te la butto comunque si ragazzi sempre di fronte al garage di brucey io vi ringrazio pollicioni iscrizioni campanelloni alla prossima ragazzi grazie e va bene ciao 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 ciao